Perché vi aprono molte strade nella vita e a volte sono sotto evoluzione. Cierimonia di aggiornamento e completamento del reparto gomme del settore automotive alla Scuola Donorione. Iniziato il 27 gennaio 2017 con il contributo del gruppo Pirelli SPA e successivamente il 3 aprile 2019 con la donazione di macchinari del reparto gomme per moto e auto, ora il reparto gomme del laboratorio meccanico viene completato grazie al contributo di Prometheon Tire Group e dalla fondazione Need You. Macchinari di vario tipo vanno ad aggiornare ulteriormente il parco macchine della Scuola Donorione e a completare il reparto gomme del settore automotive. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per un impianto per la riparazione e lo smontaggio delle gomme di camion e di trattori. Questo rientra un po' come dire nelle strategie di sviluppo, di crescita della scuola per cui con oggi completiamo quello che è appunto un progetto di allestimento di questo reparto. La sostenibilità di questo progetto? In Prometheon la sostenibilità è uno dei pilastri della strategia aziendale. Infatti il nostro commitment fortissimo su United Nations Global Compact, un'associazione di categoria la più importante per la quale noi lottiamo per le future generazioni e abbiamo tanti progetti dal punto di vista della governance, la business ethics, le dimensioni sociale, economico e ambientali. Infatti questa collaborazione è uno dei tanti progetti che portiamo avanti per migliorare la nostra sostenibilità. Per noi è molto importante dare un sostegno alle generazioni future e soprattutto contribuire a dare un'immagine importante al lavoro del rivenditore diplomatici e al tecnico gommista che è una professione di grande valore e assolutamente il nostro scopo è di sostenerla e anche queste iniziative contribuiscono a darne la corretta valorizzazione. Grazie 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 Grazie